A Roma oggi, Nichi Vendola, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, governatore di Puglia, incontra il leader del Partito Democratico Pierluigi Bersani all'indomani della sua partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio sul Rai 3 e alla vigilia di quella che lo vedrà protagonista questa sera sulla 7 e 8 e mezzo. Un incontro su cui è concentrata l'attenzione della politica e non solo, anche perché ci si aspetta possa dare indicazioni sul futuro di un centrosinistra sempre più da ridisegnare. Nell'intervista di ieri Vendola ha parlato, eppure senza troppi indugi, sulla ormai storica foto di Vasto, definendola stucchevole, quindi già sorpassata, criticando difetti evidenti come quello di essere tre maschi. Per cominciare, giustamente il leader di SEL riflettendo ha posto l'accento sul fatto che la foto fosse indicativa di un non cambiamento, visto che nessuno spazio veniva dato e pensato perché una donna fosse coinvolta in questo patto e su questo punto ovviamente figurarsi se non ci ritroviamo ad essere d'accordo. Poi l'altro elemento rappresentato alla grande partea di che tempo che fa è stato quello dell'omogeneità delle idee, che non si ritrova più negli stati maggiori del popolo del centrosinistra e che produce tutti gli scontri che ci siamo abituati a subire e che portano sul campo del liberismo le più disparate questioni. Si stanno allora affilando le armi, è evidente, si stanno tessendo le alleanze come avrete capito da queste parole. Cambia tutto e cambiano via via le strategie, anche in senso generale. Fino ad una settimana fa l'articolo 18 era oggetto di scontro fra governo, sinistra e parti sociali, da oggi invece sappiamo che certamente si farà. Fino ad una settimana fa la TAV non sapeva da fare e da oggi invece ci confermano all'unanimità che si farà. Quel che ci spettiamo anche contando sulle parole di Vendola è che ogni punto di discussione, ogni battaglia di diritto però non diventi una questione elettorale. Contiamo su di lui, contiamo sulle sue parole, che si lasci una finestra aperta sulla possibilità che i cittadini possano essere rispettati in quanto persone e non elettori ci sembra il minimo ed insieme a loro i loro diritti che per noi continuano ad essere sacrosanti e quindi vanno difesi oltremodo. E quindi questa è la lettura che facciamo rispetto alle dichiarazioni di Vendola che abbiamo ascoltato ieri ma anche l'invito che gli sottoponiamo per tutte le questioni che avvenire vorrà trattare.